Stasera sono stata relatrice nella tavola rotonda Consumer Playmaker, una tavola rotonda molto interessante che ci ha consentito di approfondire elementi molto, elementi che direi chiave per noi che lavoriamo nell'ambito della comunicazione. Una delle parole che abbiamo utilizzato di più è stata esperienza. Abbiamo infatti approfondito come riuscire nei vari ambiti a far vivere il brand a quelli che sono i nostri consumatori. Nello specifico come l'ISPLAN ho raccontato di quanto sia profondo il nostro impegno per rendere l'esperienza di chi guida tutti i giorni e sceglie una mobilità diversa dal solito, non di acquistare quindi la macchina ma di scegliere una formula alternativa come quella del noleggio per essere davvero liberi di vivere e di provare il piacere della guida e non più tutti quelli che sono le incombenze connesse al mondo dell'auto.